Parti! Buongiorno, mi chiamo Maria Paola D'Antolfi e sono venuta qui perché dopo tante esperienze negativi in Italia ho deciso di vedere se potuto trovare la mia situazione andando su internet ho trovato questo studio ho guardato, mi sono documentata sui materiali che utilizzava e ho avuto fiducia e sono venuta qui mi sono trovata benissimo, il lavoro è un ottimo lavoro mi sono trovata bene con tutti e che dire? Spero di vedere che la cosa vada avanti nel migliore dei modi Grazie!